Trovare nuovi soggetti interessati a prendere in mano il Cesena in caso l'attuale dirigenza non riesca a risolvere i gravi problemi che potrebbero portare al fallimento. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale cittadina che mercoledì ha pubblicato l'avviso per individuare realtà interessate a garantire la sopravvivenza del glorioso club calcistico ripartendo dai campionati dei dilettanti. Dopo lo sfratto dello stadio e del centro sportivo di Villa Silvia che diventerà operativo in caso si prolunghi l'insolvenza e la sindaco Lucchi continua a lunghi passi la marcia per tentare di risollevare le sorti del Cesena. Come abbiamo più volte ripetuto in questi giorni, sottolinano dal comune, saremmo davvero lieti se il Cesena Calcio fosse in grado di superare in modo positivo la situazione estremamente critica in cui si trova. Ma siamo consapevoli di quanto sia impervio il percorso in questa direzione e stiamo lavorando per essere pronti a intervenire in caso di un epilogo negativo ed evitare così si crei il vuoto sportivo che penalizzerebbe l'intera città. I soggetti interessati avranno tempo per farsi avanti fino al 20 di luglio e dovranno osservare regole precise. Sarà obbligatorio presentare un piano triennale delle attività sportive di promozione territoriale, un business plan, la richiesta di utilizzo di stadio e Villa Silvia con garanzie fideiussorie e assicurative oltre a tutta la documentazione amministrativa e una serie di attestazioni di carattere economico.